Nuovi sgomberi a Licata. Stamattina infatti, su ordine della Prefettura di Agrigento, sono proseguite le operazioni di sgombero delle palazzine popolari occupate abusivamente. La scorsa settimana era stato liberato un appartamento nel quartiere di via Palma 217, oggi invece è stata sgomberata una casa nel quartiere di via La Marmora. Una ditta incaricata dalla Prefettura ha infatti montato una scala mobile e gli operai hanno svuotato l'appartamento che era occupato abusivamente da una famiglia. In tutto gli ordini di sgombero che saranno eseguiti a Licata sono 16, ma la Prefettura di Agrigento non si fermerà. Toleranza zero contro gli abusivi per restituire legalità nel settore delle case popolari gestite dall'IACP. Da tempo infatti si registrano, ma la situazione non si verifica soltanto a Licata, casi di persone che occupano senza averne diritto le abitazioni popolari. E spesso succede che i legittimi assegnatari sono costretti a pagarsi l'affitto delle case perché quell'immobile che era stato destinato dall'ICP in base ai parametri di reddito e nucleo familiare è occupato in maniera abusiva da qualcun altro. Ecco perché la Prefettura non sta guardando in faccia a nessuno ed ha avviato un servizio esteso in tutta la provincia di Agrigento mirato a restituire la casa popolare a chi ne ha pieno diritto. A Licata la situazione adesso si sta facendo delicata e nelle prossime settimane si potrebbe alzare la tensione sociale. E infatti ad ogni operazione di sgombero sono presenti decine e decine di rappresentanti delle forze dell'ordine per prevenire eventuali episodi di reazione da parte di chi sarà costretto a lasciare l'appartamento occupato abusivamente.